Il terzo K.O. di fila per il basket club Irpinia è costato la panchina a coach Luca Iannacone. Fatale, come detto per l'allenatore avellinese, la sconfitta è arrivata domenica sul parquet di Cercola. Il 92-89 finale è arrivato al termine di un match che, dopo un approccio sbagliato, ha visto i biancoverdi recuperare nei quarti centrali, spinti dalla prestazione sontuosa di un Linton Johnson da 22 punti e 23 rimbalzi, ma poi cedere, nel finale, ad una Cercola che ha trovato in scognamiglio, il suo reader, con 37 punti. Terzo K.O. in cinque giornate per i biancoverdi, partiti per raggiungere le zone alte della classifica, e cambio in panchina per il basket club, che saluta Iannacone dopo poco più di due stagioni, nelle quali il club biancoverde ha prima conquistato la promozione della Serie D e poi raggiunto, lo scorso anno, i play-off da ottava al primo campionato in C-Gold. Al suo posto sulla panchina Irpinia arriva Alessandro Marzullo, che già in serata dirigerà il suo primo allenamento da head coach del sodalizio Irpino. Avellinese, con alle spalle diverse esperienze sia da capo allenatore che da assistente tra A2, B e C, lo scorso anno è stato responsabile del settore giovanile della Virtusa Rechi Salerno. A lui sarà affidato il compito di cominciare a risalire la classifica già a partire dalla sfida di domenica, quando dopo due trasferte consecutive il basket club tornerà al Del Mauro per sfidare Venafro, con l'obiettivo di ritrovare un successo che manca da tre giornate.